Grazie a tutti. Ci coinvolgerà, e in questo senso guardo il direttore generale, per i prossimi anni, proprio per questa ragione, perché è un investimento diretto alle attività di Eupolis. La fisionomia del rapporto spiega bene qual è la struttura e la fisionomia di Eupolis, cui lei ha appena accennato. L'idea appunto di mettere insieme la ricerca, il vecchio osservatorio di statistica e l'attività formativa e creare questa rete di reti, cioè questo momento che tiene insieme sostanzialmente tutti gli attori, da un lato il sistema universitario, l'alta formazione, il sistema economico produttivo, il sistema di impresa, in stretto raccordo con le istituzioni regionali per favorire, appunto per sostenere le politiche pubbliche, che siano quanto mai, oggi come oggi, le politiche pubbliche non possono prescindere da analisi rigorose e da dati quantitativi, per essere efficati e efficienti. Quindi l'idea di Eupolis è proprio questa. A me piace pensare a Eupolis, e sarò bravissimo perché siamo in un ritardo clamoroso, come a una specie di network territoriale di conoscenza e formazione. Laddove la conoscenza è proprio la ricerca, la formazione è la formazione che ha in Eupolis uno dei suoi settori privilegiati di intervento. La stessa idea di Eupolis, cioè di buon governo, di sostegno al buon governo della pubblica amministrazione regionale, certifica questo ruolo di supporto, di sostegno, questa mission che è per noi molto importante. Il presidente Formigoni lo sa, perché glielo ho detto anche prima, a me è piaciuta molto l'immagine dell'orecchio che ha utilizzato nella sua intervista. Cioè Eupolis come osservatorio, come orecchio, come luogo privilegiato di attenzione verso quelli che sono i mutamenti sociali, quelli che sono le evoluzioni istituzionali, quelli che sono le grandi correnti portatrici di civiltà, perché poi alla fine sono queste. e che cerca poi di vagliarle, di sondarle, di elaborarle e di dare il proprio contributo al buon governo di Regione Lombardia. In questo senso è un'enciclopedia, Eupolis, alla quale rivolgersi secondo un'immagine efficiente che ha usato il presidente Formigoni. Il mio contributo, così rapidissimamente, in termini scientifici, perché qualcosa bisogna sostanzialmente dire al rapporto Ox è che probabilmente la virtuosità del sistema Lombardo, così come emerge, raffrontato sia su scala regionale interna, sia su scala euro-regionale e anche con il sistema degli stati dell'Unione Europea, la virtuosità del sistema Lombardo deriva, e qui mi richiamo, alla voglia di federalismo, che ha usato il professor Giannino a titolo introduttivo, deriva da un elemento che noi spesso sottovalutiamo, deriva dalle tradizioni civiche. Quando penso alle tradizioni civiche, non alludo ovviamente ai druidi, penso a un politologo americano di Harvard, che è Patnam, che nel 92, dopo 20 anni di ricerca, ha scritto un libro fondamentale che è le tradizioni civiche nelle regioni italiane. Lì c'è il DNA, ci sono i modelli di cultura, di comportamento, c'è il paradigma di una mentalità collettiva votata allo sviluppo, votata all'impresa, votata al rischio, votata al buon governo. Probabilmente su queste tradizioni civiche che caratterizzano il sistema Lombardo, la nostra riflessione è sempre così marginale, le sottovaluta sempre. Secondo me costituiscono proprio lo zoccolo per quest'ansia di autonomia, di autogoverno, di libertà dal punto di vista economico, come emergono con forza dalle istituzioni pubbliche regionali per affermare questo elemento virtuoso che è il primato Lombardo. Grazie.